Comune di Caltagirone, Scala Illuminata 2012. Arte, cultura e spettacolo. Sabato 11 agosto, Festival Internazionale del Val di Noto. 14 e 15 agosto, Scala Illuminata, spettacolo unico al mondo. Dal 20 al 25 agosto, Festival Teatri in Città. Domenica 26 agosto, nella frazione di Granieri, Sagra dell'Uva da Tavola. Cofinanziamento della Regione Siciliana, assessorato al turismo. Info www.comune.caltagirone.ct.it